No, lo porta giù, poi non lo fa se vuoi, non lo porta io all'interno, e poi dai, non lo porta con i ragazzi, è un passato, è un passato, è un passato, è un passato. Ehi, ehi, certo, certo, certo. E allora ascolta, io sento bene cosa n' rivera, se lo dice che la tua padre è stato, perché la interpreter è meccanosa, va bene? Ecco, ecco. Lo sento perché non sapevo parlare a te. Ok, non lo sentivano. Non lo sentivano. Intanto per il ritorno sicuramente. Per il ritorno, grazie. 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 Quattro, quattro, quattro. Amico! Dai, va bene. Dai, va bene. Sì, va bene. Si! No, non ti toccalzi. No, non ci toccalzi. Non ci toccalzi. Dai, fatigliate, non ci toccalzi. Ma… Sì, è un po' Venga, dai! Venga, dai! Venga, dai! Venga, dai! Venga, dai! Venga, dai, dai! Venga, dai, dai, dai… Venga, dai, dai… Venga, dai, dai, dai… Grazie. 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 All'uomo di Zagabri sostituisce il numero 18 Zolic con il numero 9 Saraf. Buongiorno! 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 Porta! 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 Anche Niro! Anche Niro! Compagnati avanti! Dai lì! Non fai giocare! Anche Niro! Anche Niro! Direi! Anche Niro! Direi! Anche Niro! No, no, no. Ringrazio perché mi stanno qui. 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 e mi stanno qui. e mi stanno qui. e mi stanno qui. il secondo cambio. bravo. e mi stanno qui. e mi stanno qui. bravo. e mi stanno qui. bravo. e mi stanno qui. 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 Dai, vai Vitoria! Eudiniese! Zero! Ios Marion! Prima! Positivi! Stai! 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 Ragazzi! Durii! Durii! Facci! Uh! Vieni! Vieni! Guardi! 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 Durii! Guardi! Leggia! Durii! Set! Set! Dai! Duri! Lui! Brava! Ma Rami trova il cartellino qualche volta, eh! Ragazzi! Dai, duri, duri! Dai! Sì, duri! Sì, duri! Esamo, caccia bene, Esamo! Dai, duri! Sì, duri, duri! Primo lì, coda! Vieni in favore! Sì, sì! No, no! Vieni in più basso con te! No! Non c'è niente! Non c'è niente! Dai! 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 Anno, minasco! Eh! Anno, minasco! Passa! Grazie! Grazie! Grazie. Grazie. Vai su, Samu, vai su, vai a saltare, vai a saltare. E' finita, vai a saltare. Mario, la pratica è la squadra. Ho ancora in partenza dopo, eh. Vedi, ho ancora in partenza. Vedi qualcosa, Samu. Grazie.